Buongiorno colleghi, dato che normalmente sono piuttosto lungo vi leggo una paginetta così facciamo una cosa anche abbastanza rapida. Un caloroso saluto di benvenuto a tutti, ai colleghi della Commissione innanzitutto presenti ai massimi livelli. Grazie Frank e Sebrek per essere qui con noi e a tutti i colleghi della Commissione. Grazie anche ai colleghi di Grue, al direttore Paolo Zambupo, a Paolo Fischetti, a Mauro Martione con cui collaboriamo continuamente. Un grazie veramente sentito e per Giuliana Cristoforetti e ai suoi colleghi della provincia autonoma di Trento per l'invito per l'ospitalità e l'eccellente capacità organizzativa. Un saluto che viene dal cuore, ma già stato fatto ma lo rifarei, è per i colleghi della Regione Emilia-Romagna, sia quelli presenti che sono potuti venire e quelli che non sono potuti venire perché coinvolti nella catastrofe dell'alluvione dei giorni scorsi. Io vi pregherei di fare un applauso, ma a lungo e sentito, perché tutti i colleghi sono sempre un po' di loro. Grazie. 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 Grazie.